Una a tre giorni, organizzata la tua accademia, spiegaci un po' com'è andata, cosa avete fatto. Allora è stata una bellissima esperienza che ha visto come protagoniste due argenti olimpici ai giochi olimpici di Atene 2004, Laura Vernizzi e Fabrizio Ottavio. Insieme abbiamo creato questa bellissima esperienza sportiva che ha visto come protagoniste ben 32 ginnaste provenienti dalla provincia di Palermo e dalla provincia di Catania. Insieme abbiamo condiviso questi quattro giorni di ginnastica ritmica. Sicuramente un'esperienza di grande formazione per le bambine sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di crescita interiore e psichica perché le bimbe comunque hanno dovuto affrontare anche dei bei e formativi momenti di collaborazione, di unione e di squadra che sicuramente ha creato in loro comunque un buon bagaglio personale. C'è la possibilità che qualcuna di loro spicchi il volo in quest'ambito? Sì, in via ufficiosa comunque dico che già due ginnastine sono state adocchiate appunto dai tecnici, sono delle bimbe molto dotate che potranno comunque andare avanti nel loro percorso sportivo in maniera molto proficua. E si pensa a una buona collaborazione con la società di Laura Vernizzi che tra l'altro ha istituito un centro tecnico di ginnastica ritmica. Quindi davvero ci aspettano tantissime novità. Ho ricevuto questo graditissimo invito da Silvia Naccari e da Massimo Sarci per prendere parte a questo master che ho trovato meraviglioso. La struttura innanzitutto è veramente accogliente e idonea per le ginnaste sia perché permette comunque una parte di rilassamento ma anche di fare un certo tipo di lavoro specifico. e questo stage che hanno avuto insomma l'idea di fare, di creare permette a diverse ginnaste soprattutto qui della Sicilia di fare appunto un lavoro approfondito per migliorare le proprie capacità tecniche. Ad ottobre aprirai un centro tecnico in Piemonte e c'è la possibilità di una collaborazione con l'Accademia di Silvia. Io me lo auguro in quanto Silvia ha delle ginnaste molto promettenti e abbiamo insomma già provato a parlare insieme e c'è questa bella possibilità, opportunità per me e per loro di lavorare insieme e di crescere insieme e di permettere appunto a Silvia di far crescere proprio le sue ginnaste. In generale ci siamo molto allenate abbiamo fatto anche maneggio con gli attrezzi e abbiamo fatto potenziamento per quanto riguardava i muscoli e abbiamo fatto tante cose. Io da piccola facevo danza e quindi già ero comunque portata per questo tipo di sport poi ho provato e mi è piaciuto e quindi ho continuato.